Posso finire? Buon pomeriggio a tutti, do la parola alla segretaria per l'appello. Buonasera. Sindaco Donnarumma, Rainone Domenico, Franzese Elvira, Isernia Donata, Sorrentino Antonio, Albano Luigi, Beluso Maria Giovanna, Simonetti Giuditta, Nunziata Agnello, Manzi Angela, Pesce Giacomo, Gemito Agnello, D'Antonio Giuseppe, Carenza Roberta, Santella Luigia Teresa, Carbone Vincenzo, Lauri Laura, assente. 11 presenti, c'è il numero legale. Constatata la presenza del numero legale, dichiaro aperta la seduta. Ai sensi del vigente regolamento comunale, designo quali scrutatori i consiglieri Agnello Gemito, Agnello Nunziata e Giuseppe D'Antonio. Passo dire subito al primo e unico punto all'ordine del giorno. Approvazione rendi conto della gestione e dei suoi allegati relativi all'esercizio finanziario 2021, ai sensi dell'articolo 227 Decreto Legislativo numero 267 del 2000, come modificato dal Decreto Legislativo numero 118 del 2011 e successive modifiche e integrazioni. premesso che ai sensi dell'articolo 227 del Decreto Legislativo 267 del 2000, come modificato dal Decreto Legislativo 118 del 2011 e dal Decreto Legislativo 126 del 2014, il rendiconto di gestione è deliberato dall'organo consigliare entro il 30 aprile dell'anno successivo e si compone del conto di bilancio, del conto economico e del conto di patrimonio. Preso atto che con deliberazione dell'Aggiunta Comunale numero 95 del 13 maggio 2022 si è provveduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi esistenti alla fine dell'esercizio e da iscrivere nel conto del bilancio, previa verifica per ciascuno di essi, delle motivazioni che ne hanno comportato la cancellazione, delle ragioni che ne consentono il mantenimento e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'articolo 3,4 Decreto Legislativo 23 giugno 2011 numero 118 e successive modifiche di integrazione in conformità all'articolo 228 del Tuel, che con la richiamata deliberazione l'Aggiunta Comunale ha altresì approvato la variazione agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato a valere sul bilancio di previsione triennale 2022-24 annualità 2022, a essenza degli articoli 3 e 4 del Decreto Legislativo 118 2011, così come modificato dal Decreto Legislativo 126 del 2014, che la proposta di rendiconto 2021 chiude con i risultati contabili concordanti con quelli del tesoriere, che il tesoriere comunale Getet ha strasmesso il conto consultivo 2021 con note acquisito al protocollo interno dell'ente in data 27 gennaio 2022, che i conti presentati dagli agenti contabili sono corrispondenti alle risultanze della contabilità finanziaria e sono stati approvati con la determinazione del settore economico finanziario numero 42 del 28 marzo 2022, che sono stati riconosciuti nell'esercizio 2021 debiti fuori bilancio per euro 179.470,24, che è stato quantificato secondo principi e modalità collegate alla riforma della contabilità, un fondo a crediti di dubbia esigibilità per controbilanciare i crediti in sofferenza che rimangono iscritti in bilancio e che concorrono alla determinazione del risultato della gestione per un importo complessivo di euro 7.876.911,84. Visto che con deliberazione dell'aggiunta comunale numero 96 del 13 maggio 2022, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato lo schema del rendiconto di gestione 2021 e relativi allegati. Visto il conto del tesoriere relativo alla gestione di cassa al 31 dicembre 2021, che espone un saldo di euro 7.939.706,98 agli atti dell'ufficio, il prospetto si o psiope al 31 dicembre 2021, il vigente regolamento di contabilità che disciplina l'iter di approvazione del rendiconto, l'indicatore di tempestività dei pagamenti anno 2021, il cui valore è pari a 25,03. Predisposta la seguente documentazione, conto del bilancio, conto economico, conto patrimoniale, esercizio 2021 e relativi allegati ai modelli ministeriali, rilevato che le risultanze del rendiconto della gestione 2021 sono reperibili dal prospetto allegato al conto del bilancio 2021, che il risultato di amministrazione prima dei vari accantonamenti e vincoli risulta di essere di euro 12.414.620,49 e che lo stesso viene poi distinto nel modo seguente. 8.990.911,84 per accantonamento, 641.051,29 per vincoli di varia natura, 1.709.87,65 per investimenti, 1.073.569.71 per avanzo libero. Visto che con nota protocollo numero 12.292 dell'11 maggio 2022 il responsabile del settore amministrativo istituzionale, ufficio contenzioso, comunicava l'elenco dei giudizi in corso con la probabile alia di soccombenza con conseguente necessità di adeguare il fondo rischi contenzioso. Atteso che il medesimo schema di rendiconto unitamente al parere del collegio dei revisori dei conti è stato depositato e messo a disposizione dei componenti dell'organo consigliare, giusto protocollo numero 13.067 del 18 maggio 2022, prima dell'inizio della sessione consigliare in cui viene esaminato il rendiconto, così come disposto dall'articolo 41 del vigente regolamento di contabilità, propone di deliberare. Di approvare ai sensi dell'articolo 227,2 del decreto legislativo numero 267-2000 e dell'articolo 18,1 lettera B del decreto legislativo numero 118-2011, il rendiconto di gestione per l'anno 2021, nelle risultanze contabili indicate nel conto del bilancio, nel conto del patrimonio, nel conto economico e relativi allegati, di cui ha modelli ministeriali allegato A. Di approvare l'allegata relazione allegato B al rendiconto della gestione per l'esercizio 2021. Di dare atto che con deliberazione di giunta comunale numero 95 del 13 maggio 2022 è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui di cui all'allegato elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza allegato C. Di approvare la conseguente varianzione agli stanziamenti del fondo pluriannale vincolato a valere sul bilancio di previsione triennale 2022-24, annualità 2022. Di dare atto che nell'anno 2021 sono state sostenute da questo ente spese di rappresentanza per Euro 1220 allegato D. Di dare atto della nota informativa di verifica debiti e crediti con le società partecipate, ex articolo 11,6 lettera G, decreto legislativo 118 2011 allegato E. Di prendere atto degli allegati prospetti di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011 numero 118 allegato F. Di prendere atto del prospetto sigliope allegato G. Di prendere atto del parere favorevole espresso dal collegio dei revisori dei conti con verbale numero 23 del 18 maggio 2022 assunto al protocollo generale 13.067 che si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale allegato H. Di prendere atto che l'inventario dei beni patrimoniali comunali è stato aggiornato al 31 dicembre 2021 così come redatto dal responsabile del settore di pianificazione e controllo del territorio allegato I. Di dare atto che entro dieci giorni dall'approvazione essenza dell'articolo 16,26 del decreto legge 13 agosto 2011 numero 138 convertito con modificazioni dalla legge numero 148 2011 del decreto ministero dell'interno 23 gennaio 2012 la comunicazione relativa alle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell'esercizio finanziario allegato D. Deve essere trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti pubblicato sul sito istituzionale dell'ente. Di pubblicare il rendiconto della gestione sul sito internet in forma sintetica. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. Io ho dato una lettura sommaria del... Sì, la relazione è abbastanza lunga. Leggiamo l'estratto. Grazie mille. Vado, vado avanti con la lettura. L'organo di revisione ha esaminato la delibera di giunta numero 79 del 29 settembre. Se avete finito io vado avanti con la lettura. Se ne deve andare... Eh, però non penso che sia il caso. No, Presidente, chiedo il giusto. Era un fatto personale. Dopo chiudiamo e parlate di tutto il resto. L'organo di revisione ha esaminato la delibera di giunta numero 79 del 29 aprile 2022 relativa allo schema di rendiconto dell'esercizio finanziario per l'anno 2021 unitamente agli allegati di legge e la proposta di liberazione consigliare del rendiconto della gestione 2021. L'organo di revisione, tenuto conto dell'attività di vigilanza effettuata nel corso dell'esercizio, presenta l'allegata relazione ex articolo 239,1 lettera D del Tuel, che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale. Nel corso dell'esercizio 2021 l'organo di revisione non ha rilevato gravi irregolarità contabili o gravi anomalie gestionali o suggerito misure correttive non adottate dall'ente. Nel corso dell'esercizio l'organo di revisione è verificato che il Comune ha dato attuazione all'obbligo di pubblicazione sul sito dell'amministrazione di tutti i rilievi mossi dalla Corte dei Conti in sede di controllo, nonché dei rilievi non recepiti dagli organi di controllo interno. L'ente ha rispettato gli obblighi di pubblicazione nella sezione amministrativa trasparente del sito web istituzionale di quanto previsto dal Decreto Legislativo numero 33 2013. Con riferimento ai termini si dà atto del rispetto di quanto previsto dagli articoli 227 e 239,1, lettera D del Tuel. Il Comune di Palma Campania registra una popolazione, vabbè questa la premessa posso pure esaltarla, vado direttamente alle conclusioni. Il Collegio dei Revisori tenuto conto di tutto quanto sovraesposto si attesta alla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e si esprime giudizio positivo per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2021. Se non ci sono altri interventi o chiarimenti, la parola al Sindaco. No, semplicemente per dare un contributo alla discussione. È chiaro che ci ritroviamo di fronte a un rendiconto che è stato minato principalmente dalla pandemia. Faccio un esempio banalissimo. Non ritroviamo delle voci molto importanti o meglio le ritroviamo solo per quota parte rispetto al trasporto scolastico, per esempio alla menza scolastica, che sono dei costi che non abbiamo sfortunatamente non abbiamo dovuto intraprendere poiché le scuole per un lungo periodo sono state chiuse o in didattica a distanza o quando sono state aperte lo sono state veramente per un periodo molto molto breve. È chiaro che è un bilancio condizionato fortemente quindi dal Covid, però troviamo degli spunti positivi laddove vediamo che per esempio il risultato finale è circa 12 milioni e quindi è quasi un milione in più del solito. Questo lo dobbiamo soprattutto al grande lavoro di discussione fatta sui tributi sia per quelli straordinari che quelli ordinari. Tant'è vero che lo dicevamo nell'ultimo Consiglio Comunale, molto probabilmente questo ci consentirà di avere degli effetti positivi sul cittadino per quanto riguarda l'Atari e ci immaginiamo che anche sul recupero dell'Imo potremo dare una svolta anche al bilancio dal punto di vista della spesa corrente perché il bilancio del Comune di Palma Campania continua a soffrire di questo atavico problema nel caso specifico e quest'anno siamo riusciti ad arginare questo problema, però dobbiamo inevitabilmente aumentare le entrate perché le uscite le abbiamo già tagliate tutte, tutto quello che potevamo tagliare l'abbiamo tagliato, è inevitabile che dobbiamo fare un lavoro da questo punto di vista. siamo riusciti anche a far aumentare quello che è l'avanzo libero che ci consente di avere la possibilità anche rispetto alle ultime sentenze, le ultime nuove normative di poterlo spendere soprattutto per quelli che sono gli interventi infrastrutturali, ecco perché immagino, ma questo abbiamo fatto già un ragionamento con l'ufficio tecnico, che gli aumenti che abbiamo visto negli ultimi mesi, sia per quanto riguarda le materie prime che per quanto riguarda proprio il mondo dell'edilizia e del costo del lavoro e l'inflazione, laddove avremo bisogno di fare degli interventi lo potremo fare grazie a questa quota di avanzo libero che ci siamo tenuti. E poi voglio fare complimenti anche all'ufficio tecnico perché nell'ultimo, in questo bilancio esercizio abbiamo circa 700 mila euro che sono entrati da oneri di urbanizzazione, che vuol dire che l'ufficio ha lavorato tantissimo da questo punto di vista, credo che tutti gli uffici abbiano fatto un grandissimo lavoro, soprattutto in termini rispetto a quello che è la mole e la possibilità, ma soprattutto le risorse umane a disposizione, credo veramente sia fatto un grande lavoro, quindi vanno i miei complimenti a loro, ma anche i complimenti a tutta l'amministrazione perché credo che chiudiamo un rendiconto e lasciamo un comune che veramente, finalmente possiamo dire che è sano, l'opera non è compiuta in maniera completa ma siamo assolutamente sulla buona strada e siamo a più dell'80% dell'opera. Grazie. Grazie Sindaco, la parola al consigliere D'Antonio. Solo una considerazione Sindaco, rispetto alle cose che è stato detto, esempio, l'economia che è venuta dalla mancata riflessione e trasporto scolastico, come è stata utilizzata? sta in quello che nella totalità rappresenta l'economia gestionale o durante la gestione è stata spalmata su qualche capitolo e su quale? Allora, in linea generale noi abbiamo avuto anche minori entrate, quindi questo logicamente va di pari passo sul fatto che avendo avuto minori entrate abbiamo fatto anche minori spese, quindi quella quota parte è stata logicamente spalmata su tutti quei capitoli di bilancio che ne necessitavano, ma soprattutto ci ha consentito di non dover andare a intaccare l'avanzo per coprire la spesa corrente, cosa che purtroppo nel comune di Palma Campania per molti anni è avvenuta. Se noi andiamo a vedere i bilanci, ma probabilmente negli ultimi 15 anni vediamo che ogni anno per quadrare il bilancio sulla spesa corrente vengono fatti dei prelievi sempre o approssimativamente superiore ai 100.000 euro per poter quadrare il bilancio. Quindi questo ci ha consentito logicamente di non andare a intaccare l'avanzo, ma soprattutto di poter spalmare quel poco che è rimasto sulle altre spese perché, come dicevo, a minore uscita abbiamo avuto anche minore entrate. Grazie, Sindaco. Se non ci sono altri interventi, chiudo il dibattito e passiamo direttamente alla votazione. Chi esprime voto favorevole? 10. Chi esprime voto contrario? Chi si astiene? Chi si astiene? Si astiene? Votiamo per l'immediata eseguibilità. Chi esprime voto favorevole? 10 voti favorevoli. Chi esprime voto contrario? Chi si astiene? Quindi quanti voti favorevoli? Con 10 voti favorevoli e un astenuto, il Consiglio approva la proposta. Era l'unico punto all'ordine del giorno, quindi dichiaro chiusa la seduta. Buon pomeriggio a tutti. Un attimo solo, scusateci, un attimo. Buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio a tutti. Scusateci, quindi dichiaro chiusa la seduta. Buon pomeriggio.